Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Nucleus Games su YouTube e su quella piattaforma viola di live tutti i giorni trovate il link in descrizione. Sono uscite le prime skin per Football Manager 2021 anche se il gioco è in beta. Vediamo questa che vi presento oggi, ovvero la Beans Chap Skin. Vediamola. Poiché il gioco è in beta e lo sarà fino al 24 di novembre, alcune funzionalità non sono ancora utilizzabili. Tra queste per esempio ci sta il cerchietto che si colore in maniera diversa a seconda che il giocatore è idoneo a svolgere quella determinata posizione, ruolo e atteggiamento che noi gli abbiamo dato. Questa skill quindi reintroduce questa funzionalità e in più sblocca anche la funzione del risultato istantaneo che è stata messa qui in basso. Quindi se voi ad esempio una determinata partita non volete giocarla perché ritenete che sia troppo semplice per voi quell'avversario e non volete perdere tempo, vi basterà andare al giorno della partita e cliccare qui in basso sul risultato istantaneo al che si aprirà questa finestrella in alto, potete decidere se utilizzare un determinato piano di gioco, dopodiché cliccherete su sì e a quel punto partirà subito questa schermata, ci sarà chiaramente al solito i giocatori che saranno contenti o scontenti in base a quelli che avete scelto per mandare in campo, quindi cliccherete su continua e non andrete a fare la partita ma avrete semplicemente il risultato istantaneo di questa partita che non avrete mai giocato ma che alla fine finirà così in questo caso, 0-0 tra Everton e Huddersfield. Risultato istantaneo funzionante. Qualcuno magari si chiederà perché c'è il pulsante in basso e non in alto a destra come negli anni precedenti, perché il risultato istantaneo qualora venisse messo in alto potrebbe creare qualche problema, infatti alcune altre skin, non questa, faticano a far vedere la colonnina della condizione e della forma partita che invece si dovrebbero normalmente vedere quando si clicca qui e si va su informazioni. Con questa skin questo problema non ce l'avete, come potete notare Vince ha utilizzato questo espediente per aggirare il problema che di base invece hanno altre skin attualmente presenti sull'internet. Questa è una skin sicuramente molto molto semplice, introduce solamente due funzionalità, poi dopo il 24 di novembre quando avremo il gioco in versione definitiva Vince farà una versione potenziata dove si potrà vedere ad esempio anche in background chiaramente gli stadi. Vediamo come si installa questa skin. Questa è quindi la pagina da cui potete scaricare la skin, vi lascio chiaramente questo link in descrizione al video, dovete semplicemente cliccare su download da quel punto, dopo pochi istanti partirà quindi il download e dopo pochi secondi avrete scaricato la skin. Andiamo adesso nella cartella dove voi normalmente scaricate il materiale da internet che per me è la cartella download. Questa è quindi la cartella download, questo è il file che abbiamo appena scaricato, ovvero il Vince CHAP skin. Non dobbiamo fare altro che chiaramente estrarre questo contenuto perché questo è un file compresso, ci serve quindi un programma che ci permette di estrarre questo materiale, 7-Zip, WeRAR al solito sono programmi gratuiti che ci permettono di fare questo, tasto adesso il mouse in presenza del file appena scaricato, si apre questo menu, quindi andiamo su estrai i file in Vince CHAP skin, attendiamo che l'estrazione si completi e avremo quindi la nostra skin. Entriamo dentro questa cartella omonima e andiamo a prendere questo file, questo è molto importante, non dovete spostare tutta la cartella, ma dovete entrare dentro la cartella e andare a tagliare questo materiale interno, mi raccomando altrimenti non viene poi letta dal gioco. Tasto adesso il mouse, andiamo quindi su taglia, poi andiamo su documenti, sport interactive, football manager 2021, poi andiamo su skin, se non avete questa cartella skin dovete semplicemente crearla. Con tasto adesso il mouse e poi andate su nuovo, poi su cartella e date il nome skin. Se avete già la cartella skin, cliccate due volte all'interno della cartella skin e a quel punto tasto adesso il mouse in un punto qualsiasi dello schermo e poi cliccate su incolla. La fase 1 è terminata, abbiamo scaricato il materiale, estratto e messo all'interno della cartella giusta di FM21, ora e solo ora dobbiamo avviare football manager, mi raccomando prima doveva essere chiuso. E adesso che abbiamo avviato FM21 non ci resta altro da fare che cliccare su preferenze e poi qui dove c'è scritto skin ci clicchiamo su e selezioniamo la Vince Chap. Dopodiché andiamo su conferma, a quel punto il gioco ricaricherà chiaramente la skin giusta e potremo sfruttare finalmente la Vince Chap skin. Non vi preoccupate se ci sono alcuni secondi da aspettare, è del tutto normale, noi ci vediamo al prossimo video di FM21. Buon salvole!